Salve ragazzi qui è Delta28 e oggi voglio fare un video extra da oggi perché è successo una cosa bella e ve lo voglio dire, mi lavorerò a dicembre, è stato annunciato la data pure, sono super stracontento, basta fare, quindi un video extra dedicato a OV, perché anche perché volevo farvi vedere come ho qualche costume in più e quindi volevo farvi vedere i modellini, i modellini, eccolo qua, basta con il modello, allora se vedete ho dei soldini dindini, però i dindini dindini li vinco soltanto tramite i screenings, quindi tramite giocando, scusatemi, è l'emozione oggi, allora questa è la versione standard, ecco qua, vedete quanti altri aspetti, però non voglio sprecare 200 per queste skin banali, questi li puoi solo sbloccare tramite determinati eventi, però non mi interessa a me mi piace l'emote, quindi qualche emote lo sbloccherò prima o poi per esempio, devo vedere quale però, più che altro l'emote voglio sbloccare questi, che a 200 vedete che costo ovviamente a un certo livello e mi diverte averlo quando diciamo c'è la cosa del tipo ah hai fatto la scena più bella del gioco, no, ecco qua, infatti vedo quale prendere, certamente voglio prima di prendere questi height thing, che il più bello è questo, con questo personaggio, che è stra figo, stupendo, lei voglio farmi qualche costume suo, farmi in senso che lo voglio comprare, ecco, ad esempio questa versione, no, ma scusa, elegante che differenza c'è tra normale che poi è uguale, no, io voglio, eh però carino questo colore, no, che schifo, però più bello questa versione qua, però più gangster, classico, mafia, mafia, non lo so, sono indeciso, questo è simpatico però, però è bionda, la bionda non è che mi piaccia tanto, eh però questa è figa, mamma mia, se sblocco questa è stra figa, però la prenderei versione, eh, 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 safari, che jungle, eh, sì, decisamente, sì, perché ovviamente questa è la sua posizione, però io giustamente, eh, a parte che le moto è pure carina, lei, eh, no, guarda, voglio una ragazza come lei, punto, basta, ho capito, la posa vittoriosa, io ce l'ho già, che è questa, che non me la fa selezionare, mannaccia, se non l'avrei vista com'era, però questa è la posizione, eh, generica, quindi sono indeciso, io devo prendere un suo costume, però i costumi più interessanti costano mille, quindi a voi gli aspettare qualche costume interessante, questo è simpatico, ma è troppo verde scuro, non mi piace, così la preferisco di più, ho la versione gangster, che è simpatica, che poi mette molto in risalto, va bene, ok, ho capito, poi abbiamo lei, che ho già un modello, che è questa versione qua, che è poi nella deluxe, eh, però non è che... la modello che voglio avere, io, è questa qui, no, che ho detto, aspettate, ecco, questa, questa versione qua la voglio, no, viola, eh, beh, anche il color viola è simpatico, fatemi vedere perché a volte cambia, ah, no, di lucidità, però questa è più nera ed è più figa, sembra più gotica, quindi al diavolo tutti, lei ha già la skin Diva, versione poliziotta, però il modello che io voglio prendere a lei è questo, Scarabbeo, mi piace troppo, mamma mia, infatti, che poi Ape è un richiamo a Wasp della Marvel, ho preso spunto da Bumblebee, due sole cose, vabbè, vabbè, gli altri modelli poco mi interessa, però ho qualche skin come lui, ad esempio, o lei, che io l'ho fatta in questa versione, bla bla, ci sta molto da sbloccare, però con calma, con calma, che è successo qua, ok, però voglio giocare, mo voglio giocare e ovviamente, dai, ho voglia di giocare, ho voglia di fare delle belle partite, ho voglia di, oh, di farvi vedere come si gioca, e morirò in maniera abusiva, già lo so, però vediamo, la connessione è buona, ma, quindi giochiamo, sì, sì, perché tanto ho fatto un gameplay su Battlefront, ho fatto un gameplay su The Island, e mo faccio un altro su Overwatch, e a sto punto approfitto, chi è che manda messaggi, calma ragazzi, calma, adesso non è il momento, devo fare un gameplay, devo giocare, devo, devo far vedere come sono bravo, come sono bravo, e come, come muoio, ecco, palesemente parlando, come muoio, sicuro. Allora, come è bello che tu prendi il personaggio e te lo carica, comunque, ehm, prendo lei, pum, che bella, poliziotta, guarda come è bella, come è bella, come è pettina, mi farei arrestare, allora, zitto, zitti, 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 allora, solo un guaritore, un guaritore, un guaritore, un guaritore fra questi, ah, ah, questo è un guaritore, non lo sapeva, vabbè, tank, 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 diciamo, linguaggio, tank, slippers, già è cominciata la partita, ben, prepara le, eh, ah sì, ok, bene, ah, ognuno ha una bella skin, cioè, this è già una skin, Beh, so il colore, in teoria Oddio Mi sono spaventato No, ok, mi lagga un po' Che è successo? No, mi ha laggato momentaneamente No, no, non mi laggare Vi picchio tutti Io metto così Dai, non mi laggare Che mi arrabbia Quindi giochiamo con calma Facciamo cose belle Oh, tutti schienati, quasi Però io sono più bello Sono più bella No, mi lagga un po' Mi lagga un po' Che è successo? Mi lagga un po' Maledizione, mi lagga un po' Questa cosa non è bella Ma come mi lagga, infatti? Scusatemi No, no, no Oddio, ma che è? Aspetta, aspettate, aspettate Mi hanno fregato alla grande Attenzione, attenzione, attenzione Ah, dolore È fatto molto male Vi ho detto che so giocare Volevo dire che non so giocare Ok, lo ammetto Non so giocare No, 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 no.... Che brutta morte Ma poi che colpisce la donna Ma che violenza Violenza alle donne Questo video Se è rimosso soltanto Per questa scena Madonna Ah, aspetta con qualcuno Che mi sta facendo molto male Non riesco a trovarla O trovarlo Chi è che mi sta trovarla? Ah, ecco bastardello esamina il carro dopo 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 no che è successo no è lag lag di cavolo no non mi trovo mi sono perso voleva variare la sopra ma laggato di brutto state calmi state calmi state calmi state calmi scambi e avete stancato voler per madonna questo masso di pietro di ghiaccio qui no come me la parta che brutta cosa con un milano in questo modo bella non so se qualcuno l'ha visto ma l'ho chillata andandogli addosso ah 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 bella fanculo così si fa mi ero sto mi sto un po' stancato no guarda come mi lagga si perchè quando stanno troppo ferma madonna che kill bella 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 oh però bella skin bene andiamo oddio non l'avevo visto non l'avevo visto ma cosa ho visto una cosa strano e mi sono pure bloccato bella bella però c'è un problema qui manca un aia vabbè per fortuna che non l'ho sfruttato si eh infatti l'ho un po' più ignorato aia però mi ha fatto pure male vabbè però ho fatto un ottimo lavoro quindi va benissimo così ah abbiamo cambiato posizione di cose di caricamento e se più che giusto siamo andati molto avanti con il cargo aia stiamo moreno pure male se io dovrei usare dove usare il fatality se tutto va bene finisce eh però un intanto scatto e questo non è una buona cosa no guarda come mi ha laggato ma laggato di brutto ma perchè mi lagga quando non non deve laggare madonna cosa è successo ah ok no 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 aspettate 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 beh eh pure quell'altro però eh bella 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 aiaiaiai dolore 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 aaaah troppa gente 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 guarda come i lacchi io lo odio quando fa così perchè io mi muovo a caso però in teoria loro non vedono più me o semplicemente mi vedono aspetta dove so ah ecco ciao ancora sta qua questo bella ok ah lo ucciso io scusa ti ho rubato la kill il raro ma letto io l'auto questa l'auto l'auto tantissimo ma donna non la sopporto no ma gatti ghiacciato mi ha ghiacciato mi ha ghiacciato mi ha ghiacciato tantissimo eppure black pure lagg tutto lagg tutto lagg ma perchè mi scatto il lagg così a caso guarda che palle infatti sono bloccato ah no sono frizzato ok 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 non era però anche un po' di lagg è scattato eh avevo visto un po' di lagg vabbè dai che non è andata malissimo perchè stavo cercando di difendere discretamente bene non dobbiamo far raggiungere l'obiettivo dai se ci riusciamo vinciamo perchè devi scadere il tempo capito però non devi raggiungere madonna come lo odio quando fa scusi madonna ho fatto una sciocchezza però eh l'ho ammette ho fatto una grande sciocchezza si l'ho fatta apposto però eh l'ho fatta apposto lascia che stare che l'ho fatta apposto non sono pazzi sono anche pazzi no no guarda so che la carta peccato oddio dolore è ovvio era laggato non ho capito niente se il pacco ballava da solo infatti guarda ero fermo se no l'avrei evitato però cazzo questa è la violenza contro le donne in maniera inghiacciante e poi di compagnia ed io e violenza contro le donne io sono persona brava andiamo dai cerchiamo di resistere dai se riusciamo a sopportare per altri minuti per due minuti quasi eh però mi ha laggato il brutto no l'ulti l'ulti nooo l'esplosione oddio sono pure mo' bella così a caso ma bella si perchè mi sono partendo come fosse autucciso ma in teoria sono morto ah non sono ma però ho fatto chile ahahah ahahah la soddisfazione non vorrei dire battute di un certo tema del suicidio quindi sto zitto sono avrei detto la cosa del tipo ahahah niente no quella come mi lagga ogni tanto mi lagga mi dà fastidio dove aia ti ha preso in pieno ah eccolo bella bella madonna no non ci sono riuscito a pigliarla cacchio non è facile perchè vola cioè solo io sparavo cioè spiegatemelo sta cosa dai antipatici non vedete che stavo sparando a quella cercavo di spararla infatti pensavo di colpirla invece no pochissimi secondi no 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 conteso si si dai 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 che ce la facciamo ce la facciamo zitti zitti ce la facciamo benissimo ma la fatti muovere quel cosa no 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 non mi interessa proprio no, due minuti che sfiga, proprio che sfiga è stancato, no, che sfiga due minuti però, no cacchio mi larga, si infatti non ho capito nulla madonna mo l'ho visti mo l'ho visto che era una bomba l'ho notato ora, che sfiga non sapevo che era una bomba non lo sapevo non lo sapevo proprio no, dobbiamo recuperare, dobbiamo resistere eh, dobbiamo vincere ma non mi prendete per i fondelli che dobbiamo vincere eh, vabbè, però quando incontri gli avversari non mi può lagare in questo modo così a caso vediamo che cosa ho fatto, ho fatto qualcosa spero di siano eh, fuori uno mi ha stancato, fuori due ok ah, sì, ma io ho un altro nemico qui ok, no, va bene mi sono autocurato, ottimo buf-boc park ora che dicevo più inиса come mi raccata recuperato frutturi intuito d'oltre è va bene dopo il cavolo ne hanno preso un po' di miraggio intanto vediamo i miei compagni e rosso che stanno faticando comunque abbiamo vinto e magari riesco a fare pure la mia ulti e ggwp magari faccio una strage forse forse ma ne dubito fortemente vabbè però proprio ma perché mi lagga dimmi che ucciso qualcuno ma io ho fatto una cavolata bellissima what the fuck bella bella vediamo chi la bt chi e qual è la posa vittoriosa nel frattempo comunque mi è piaciuto lui che è stato deciso poi lei mi è piaciuto e fine lei che mi è piaciuto e basta niente più non ci sta chi ha fatto la cosa migliore dovrebbe starci solitamente non si è fatto o non si è caricato solitamente fa vedere chi è stato bravo nessuno 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 quanti punti prima vittoria del del giorno non lo sapevo che ci sta sto punteggio comunque abbandoniamo squadra si così cambiamo si io lo faccio sempre si qua mi fa vedere la cosa qui caricamento night 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 light pam ecco qua che bella ho fatto io la la cosa migliore wow non lo sapevo non avevo capito sta cosa l'ho fatto io che figata così a caso ottimo non lo sapevo non me l'aspettavo proprio figo 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 e si vuoto perché gli altri non è il primo ma che figata l'ho fatto io non lo sapevo non l'avevo capito buono vabbè giochiamo 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 siamo in grecia siamo in grecia che non gli somiglia per niente la grecia però no beh un pochettino dai si voglio una mappa ira che lui da mappa italiana che c'è venezia andiamo qua ehm non c'è manco il mio corpo ragazzi c'è un problema io sparo ah ecco ok ecco no è un po' un problema di connessione intanto no lol ecco il mio stile di combattimento spara raffica fino a quando non avanzano tutti ah ah è giusto però ok ok oh che bello tutti a mangiare roburr io faccio scrivo ah no 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 ma cosa 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 ma che vuoi tu ma cosa ma cosa tu google sparisce io sto sparando in attacco vediamo un po' guarda guarda poi come bene io mi sono messo qui proprio per del tipo ha 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 faccio la retta divisa roberto e voli metterti in apposizione dai che forse possiamo bello io intanto gli faccio più danni a questo qui a quell'altro tutto se tu mi spari però non hai capito che non mi fai nulla o faccio più danni io così se è un mosa che mi compagni rossi che poi non fai manco chi dice fai soltanto punto non fai manco punti quello che so credo e non lo so così facciamo chi l'ha caso e lo deve tutto bene bene mi è piaciuto come è caduta lo ammetto mi è piaciuto come è caduta ah perfetto cominciamo a partita rialto siamo a firenze che bello ue vorrei parlare napoletano però non è proprio coso perchè effettivamente non so parlare napoletano neanche fare una scena napoletano perchè faccio schifo se inizia a parlare veramente con un dialetto o accenni molto del sud è brutto nessun tank no no aspetta se non ci sono tank è brutto ahahah che bellissima ahahah scusatemi sono emozionato oggi oggi sono molto emozionato eh si sto anche bevendo la coca la coca colla ah andiamo ah dove cominciamo? nelle fogne che bello eh giustamente dobbiamo cominciare in Italia in qualche modo no nelle fogne allora si va di qua dobbiamo ritornare ah però bellino vabbè giustamente no ue dattemi uno passage no il bug madonna 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 ho visto un lag bruttissimo non si buttano cose dalla fina beh siamo in Italia bella delle costruzioni allora non mi ricordavo una posto del genere però ho visto qualcosa lì attenzione che sono già tutti qua eh eccolo ecco eccoli eccoli si però non mi date problemi però non mi laggare non mi laggare ma non mi laggare cioè mi è piaciuto che mi sono andato addosso bella aia 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 no no che razza di costume carino però ho ignorato poi il tank in teoria quindi si poi mi sono andato di statua io lo scappare a dirvi te ha dato il cazzotto minca violenza tra le donne vabbè no questo si accetta no sono contento sono contento perchè giusto arre buon messo e la cava e finivo in acqua c'è la più da morte più stupida partita andiamo poi andiamo poi andiamo poi andiamo un po' in non sono troppo contento scusatemi ok non ci vado più ci sta un altro video l'avevo notato di grab sera aia 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 molto male molto stramale si mamma si arrivo subito proprio ora proprio ora proprio scusatemi è importante lascia la partita pazienza la partita pazza la partita pazza eccomi scusatemi 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 era importante chiamò sto molto perché quindi mi ha chiamato per che gli serve qualcosa e se stavo troppo fermo il gioco giustamente dice no se in attivo ti togliamo ovviamente mi laggano quando uo abbiamo una torretta al parco a disposizione muoviamoci entriamo oddio che è successo ciao amico si è bloccato pure io si e per forza era la vendetta personale scusate non mi stavo stancato no 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 aia che è successo a te qualcuno mi sta facendo molto male non distruggiamo il monumenti e grazie fiduacos. ancora visto vita tutto 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 qq Marina tu to 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 toicò broga dai via fregatotis grazia voleva voleva ancora tramunan fatto male ma fatto male lui pacific pacific un pacific everything ho fatto oddio mi ha rianimato mi ha rianimato, so che c'è un problema, che mi lagga tutto mi è piaciuto cosa ho appena fatto, cosa ho appena fatto, c'è un problema, mi lagga tutto scusate ma non ho capito proprio nulla vi giuro che non ho capito proprio nulla dimmi che l'ommazzo, 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 dimmi che l'ommaz però correva come un raffica c'è un motivo perchè corro capito perchè se mi lagga troppo poi c'è un problema e non voglio restare il problema bellissima yeah surprise mother fucker bella forse è andata bene stavolta vediamo un po o il coso ah no ha vinto lei ha fatto il tiro che peccato vabbè intanto se faccio lei che mi è piaciuta bello il si stessi sono pronto tu e si sta chi ha ucciso a madonna ucciso ah è uno dei nostri ok perfetto 8 posti 1 figa che loro ce l'avevano bella partita mi è piaciuto però no dai sono simpatico adoro lui così a caso vediamo un po' com'è andata vabbè niente di che dai passi a partita cambiamo squadra vabbè 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 si si oggi faccio tutto il game play tutto il gameplay sono più che contento no mi sono solo casato con te però questo seguito domani dove c'è studiare andate che palle vabbè lo devo fare niente la laurea è importante ragazzi si si ho tutti aspetti simpatice carini si faccio sempre lei per il momento a pesca macchia o che bello ho visto una cosa di provviso dietro di me ha detto che cacchio scusate ma ho visto l'improvviso uno così a terra ma che cosa cosa appena visto se no voglio mettere prima sono un tanto ma c'è un tanto che poi sarebbe a peggio il fuoco io non riesco ancora usare che troppo corpo a corpo bene su un guaritore quattro la bella di questo gioco che sto iniziando a notare e il fatto che non è necessario rispettare forza la categoria che da tutti scelgono sempre gli stessi uh ma che bel posto carino ciao ciao per te ok andiamo 4 e vabbè però se tutti sparati all'altro faccio anch'io ok basta sono scemo lo so scusatemi scusatemi ma sono contento sono contento e vabbè però si sono contento voglio mettere pure il mio ecco fuoco si però siete pure scemi voi ok ma non siamo andati proprio quella cazzina siamo andati però eh aspettate che sto arrivando anch'io e vabbè però non mi laggare così ecco faccio una cosa simpatica finisci bella bella aia mi ha fatto dormire foco 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 ammazzatelo ammazzatela scusatemi ah no era ammazzatelo si ho detto bene che questo poi spara le palle è simpatico con me però non l'ho mai capito come usarlo la metto le dinamiche dei combattimenti posso variare con i sei spari attacchi cose varie però onestamente parlando devo ancora imparare c'era questo è solo di imparare ma questo è di saperlo capire come funziona intanto porto in sé sono talmente avanti scorta il carico si c'è con calma bellissimo cioè io sto andando a cazzo un po' più così guarda non sto facendo nulla sto sparando a raffico come non ci fosse un domani no mi sta attaccando ragazzi io sto sparando a raffico come qualcosa di pensivo bella madonna questi personaggi comunque no 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 bella bellissima che cosa ho fatto lo schifo no ma fregata la grande e va bene fa niente errore mio ebbè però è stato bello perchè l'ho notato mi sono posizionato a sparaghi e vabbè mi ha ammazzato sfiga vabbè pazienza no ma non mi deve laggare in questo modo cacchio a volte succedono ho capito il perchè c'è forse ho capito c'è molto calo di energia l'ho capito però da un fastidio cane qualcuno che lo porta giù qualcuno che lo porta giù il tank no come mi lagga e faccio cannoniere c'è proprio il carro armato posso accompagnare che soddisfaccia però guarda come lagga io lo odio quando fa così devo capire come riuscire a risolvere questo problema dell'acqua bella no no peccato bella col cacchio aia cacchierola che danni no però guarda come mi lagga quando posiziono l'attacco come cacchio faccio se no eh beh giustamente mi attaccano tutti non potevo fare nulla si perchè avete visto come mi ha laggato perchè quindi mi ha bloccato la possibilità di capire chi attaccare oltretutto infatti mi ha fatto una bella cosa oh di quanti danni quanti kill proprio voglio auguri si si vede i miei compagni che fanno delle kill micidiali vabbè intanto stiamo abbiamo recuperato siamo a un buon punto però è lasciato stare eh però come guarda come milan cioè sono tornati indietro quasi di dieci metri e la miseria che palle dai 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 forse coraggio ciao facciamo ce la facciamo va che cosa è successo oddio si auto ha fatto l'ulti ha fatto oddio io ero sicuro che si era liberato dalla ok è stato un errore mio anche perchè pensavo che era l'ulti non era l'ulti se era solo date che gli avevo distrutto il cane invece no ma fregato proprio di poco ero sicuro che avevo non era l'ultimo eh però fa male a piccolina eh del culo coprimi coprimi l'odio questo ninja del cazzo eh si perchè lui si difende con il proiettile capito? sono scemo guardate cosa fa si prepara a sparare con la spada tu 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 e tu stai entrare ammazzato è un'ottima arma difensiva mannaccia quel ninja e una delle cose che non sopporto di questo gioco è il ninja ninja wow wow viva il ninja ahahah attenzione fuoco vabbè vittoria però ho fatto schifo eh quello che ha fatto la migliore azione è stato 1,2,3 schiennate dai si oddio bellissima la versione ehm ehm eh si quello che voglio io bella e poi era pure la nostra amica io volevo dire è questo lo sapevo che era questo perchè ha fatto un bel po' di danno guardate a noi due poi a chi altro ah no sono noi due venga comunque sei stato brava tu 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 si si perchè sono stati tutti diretti eh si sei stata brava lascia stare che sei stato brava mi sei piaciuto dai vi voglio aprire con voi un uno scrigno così finiamo la registrazione d'accordo? uno scrigno ci serve solo uno scrigno vi faccio vedere che cosa può uscire magari un bel aspetto estetico estetico vediamo madonna quanta pubblicità qualcosa mi dito dove siamo qui ah ok bello simpatico peccato che non riesce non so il giapponese io non capire il giapponese stanza puramente nerd no volevo vedere volevo visitare volevo controllare la città ok siamo in germania quindi io yes the desken ok no aspetta che cazzo quello non è quello no aspetta si 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 ok siamo in germania siamo in germania no aspetta ho sbagliato ho letto bandiera sbagliata no ho letto ho visto le bandiere la scritta il segno nero rosso e giallo quindi tedesco si ho detto bene che alle strisce rettolico verticali vedi sono scemo io solo un tank e chi è il tank in tutto ah lei è giusto vediamo che cosa si può fare bello dai siamo ma perchè passano tutti davanti a me che poi l'arco da bestia si bretta santo furesse che fate il trasportico però bellino questo posto mi piace è la prima volta che faccio questa partita ce la faccio la partita qui qualcosa mi dice zitti aspetta zitti devo fare oh aspettate zitti devo fare le devo fare il moto ragazzi ho trovato un amico mio sono in famiglia assolutamente io qua faccio se muoio faccio compagnia eh vabbè però lagga devo colmo sono arrivato giustamente aspettato sono arrivato mi limiti giallo allo coso mi limiti gli altri stanno arrivando ah io credo poi di sì fuori uno mi è piaciuto beach please si so che laggano cioè io l'arco no ma credo che ci stanno molti a giocarci quindi ecco perchè sta laggando perchè io la connessione comunque ce l'ho buona si perchè sto vedendo la registrazione sono a 60 frame e che cacchio sai che io non vedo altri ragazzi fate qualcosa voglio affrontare qualcuno no eh però se stanno tutti in là mi da fastidio però nooo maledizione mi ha laggato mi ha laggato alla grande bella ma dopo che cosa ho fatto ho fatto 3 kill fantastiche ma dai è stato bellissimo ah ragazzi vi saluto vi saluto ciao ciao no 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 mo aspe no aspe lo so messo io faccio così e gioco così a over watch un menù di quello che vuole ma io così faccio gioco aia 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 qualcuno ha fatto molto male non ci credo che cos'è successo spero io rivederlo voglio rivederlo perché io dopo capito che stava sopra sopra mi ha fatto la kill però quanto è però chiaro l'ho fatto un sacco di credo che io ho fatto il miglior punto della migliore azione comunque sappiate ovvio tetasporto creato da coso non so usare il tetasporto faccio schifo aspettate aspettate col cappio che nooo e vabbè mi lagga però mi lagga non mi deve laggare bellissima sono arrivato fuori uno bellissima oddio non l'avevo vista proprio vabbè pazienza ora non più non c'è più questo problema io mi metto qua e faccio la torre a pista si questi sono dei disgraziati no che vogliono prima volare poi attaccarci alle spalle regalino qual è il truccolo aspettate per tutti che ecco ma dopo cosa ho appena visto visto un razzo volata passare all'improvviso e ormai l'avevo capito che andavi l'abbastata eh l'avevo capito che lui vuole fare il furbo vuole fare purtroppo mi fa male eh però oh e grazie al cacchio vita 45 porca miseria non mi cioè livello 45 non mi sorprende che è forte sai il fatto suo però questo non significa ma gli facciamo il culo aspe no guarda quanto è pericoloso eh ma uno come quello è pericoloso pericoloso guarda come saltelli tu un'altra no 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 che cosa avete capito non avete capito proprio niente aia dai che ci siamo ah c'era un altro tank e tank di livello no eh si mi ha fatto ha capito il trucco disgraziata ha fatto la stessa cosa mia dai zitti non dobbiamo farcela eh zitti ce l'abbiamo quasi fatto no 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 troppo tardi che sfiga peccato potevamo farcela potevamo farcela ma poco costo per api sto poco sono fatto una brutta di quella fine proprio che se mi sta curando perchè giustamente ah ecco ti erano in due lì e senza sapere non qua devo cambiare strategia devo cambiare strategia per forza se lo faccia fine come loro di qua si va giusto perfetto vediamo un po' questo è tosta eh perchè abbiamo un avversario molto di livello alto maledizione ah che è successo what alla fine fine non dipende dal livello che hai alla fine fine dipende tutto da quanto sei forte e agile madonna guarda quanto è tosto tener testa qua no mi ha laggato mi ha laggato mi ha laggato bellissima oh è stato tosta è stato tostissimo vi giuro è stato tosta sei pure incavolato perchè ho laggato infatti io voglio scrivere sorry lag sì sì io sono onesto così senza essere rabbia diciamo tu hai fatto il trucco no in realtà non uso trucco però dov'è? mi sono perso dov'è? no ma ah eccolo no 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 bella no 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 ma che cosa? fermati no 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 bella ok sono entrato ok ok chi ragiona adesso ma dopo che cosa sto facendo? si stanno incavolando tutti comunque contro di me si si stanno incavolando tutti contro di me quello infatti siccome si stanno incavolando che dico tu non sei uno di livello no vero chi se ne frega no mi lagga no infatti non ho più capito nulla è allargato di brutto bellissima second impresa 10 di 20 che è successo mi sono perso comunque ho fatto un massacro raga madonna che cosa ho fatto no lei ha fatto di più ma cosa quando perché mi sono perso che cosa ha fatto di me no vabbè ha fatto qualche bel danno ah ero giusta eh si perché giustamente io ero comunque mi è piaciuto a te mi sei piaciuto vabbè sei stato a sto punto bravo appunto e infine ok mi sei piaciuta a sto punto però ho dimenticato che mi sei lì no no non posso fare a te vabbè a te perfetto sono salito pure di livello e niente livello 12 oltretutto forziere e sono contento usciamo bella partita dai è andata benissimo vediamo i scrigni che cosa ottengo siamo pure in italia mi sembra gelateria ok siamo a venezia voglio vedere che cosa mi esce siamo pronti dai vediamo cosa mi esce due cose blu quindi ah figo allora mi è uscito una posa vittoriosa ottimo soldini soldi 250 ottimo spray vabbè non mi interessava oh spray simpatico due spray negozio consiglio a caso posso prendere no e perchè devo prendere potrei se ho sbagliato ce l'ho un attimo i soldini approfitto giusto per lo faccio giusto per se si può fare vedo giusto se posso no non posso farlo perchè non ce l'ho stavo ricordando no non ce li ho però forse 2 euro si si non ce l'ho perchè adesso non ce l'ho portato in mano oggi voglio sbloccare due i scrigni per vedere cosa trovo giusto per se si può fare no paga ora vediamo se si può fare controllo si vediamo vediamo dimmi di si così sono a posto ah si perfetto apriamoli vediamo che cosa mi è uscito ah bello questo che cos'è modello un aspetto estetico voce voce vediamo quest'altro apri vediamo cosa mi è uscito quest'altro giusto per così sono a posto ok ok dai meglio i spray spray mi tolmeli tolgo dai piedi cora pure ok basta sono pure contento andiamo su coso perchè ho sbloccato questo vediamo ho sbloccato posa vittoriosa a sto punto che si si ho questa skin sua però vedi che sono inutili di sbloccato le pose eccolo qui poi vediamo questo qui modello si però giustamente io abbiamo questo quello che ho sbloccato è questo ma ditemi voi però preferisco arlecchino lei scusatemi lei invece spray che ho sbloccato questo finalmente e io lo metto qui si oppure la sua skin è un'altra sua skin e beh è ovvio ecco meglio questo scusatemi ma si ringa giusto perchè siamo brai persone ok poi abbiamo lei che è spray no ah ok eccola ah lo tengo lei e poi anche lei ecco qui dai a posto lui invece si ho visto lo spai con la barba quindi a voglia subito eccola qui lei invece cosa aveva audio ok ci sono apposta anche con l'audio lui invece aveva audio vabbè non mi interessa lei era audio così si così mi tolgo dai piedi i suoni e questo che aveva spray che ovviamente ecco qua mo però 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 sono a ehm 250 che mi fa aspetta 250 ovvio ecco qua guarda che bello ok ok così oppure così si perchè mi piace troppo vincere facendo così difficile che userò lei però cioè è carina però se metto anche la skin a posto bene ragazzi ho fatto una bella partita sono più che contento vedete anche se non l'ho fatto in teoria peccato potrei salvare queste però no bene ragazzi spero che vi siete divertiti io qui vi saluto qui dal 38 passo e chiudo